Luri Romano, una grande Italia, c'è poco da dire davanti a questo pubblico fantastico. Siete dove dovevate essere? Che ci racconti dopo questo 3-0? Bellissime sensazioni perché siamo stati bene in campo, abbiamo giocato bene dall'inizio alla fine. Siamo stati tosti sul punto a punto, siamo andati avanti quando c'era da spingere. L'abbiamo anche tenuto quando c'erano i bei momenti loro, quindi davvero un'ottima partita e siamo felicissimi. Soli in difesa, precisi, non fondamentali. Qual è la qualità che più ti è piaciuta stasera della vostra scuola, vedendola in campo? Ce l'avevamo detti di essere tosti perché sapevamo che loro lo sarebbero stati, che sono una scuola che difende e non fa cadere le palle facilmente. Quindi ce l'avevamo detti di dover fare la stessa cosa e abbiamo fatto molto bene, penso anche meglio di loro e per questo abbiamo vinto. L'edizione della finale mondiale sabato contro la Polonia a Palazzetto Martino. Sì, speriamo si inverta anche il fattore campo, però sì, bello giugare contro la Polonia, li conosciamo bene, sappiamo che è una squadra fortissima. Sarà dura, però avremo la spinta di questo palazzetto fantastico. Il primo e il secondo set è cambiato un po' dal servizio. Il primo e il secondo set è cambiato un po' dal servizio.